vi sconvolge l'idea attraverso orietta trapassata per un incidente d'auto in cui salvò il figlio coprendolo con il suo corpo a cura di vb Antonino la lotta tra il bene e il male esiste da sempre ma vi sconvolge l'idea che esistano sette che adorano il male che operano per lui come voi operate per dio ma le tantissime guerre che si sono perpetrate nei secoli in nomi di dio credete forse che fossero tali che cosa vi sconvolge tanto il pensiero che qualcuno possa uccidere altre persone in nome del male credete sia da applaudire chi invece lo fa in nomi di dio oppure a sconvolgervi e la vista di teschi croci a sei punte candele e strani cerchi e simboli come se non si sia mai ucciso sotto una croce cristiana con questo non voglio certo che pensiate che consideriamo normali queste sette e ce ne sono a centinaia voglio solo sottolineare che un omicidio è sempre tale sia esso fatto in nome del bene o in nome del male è male punto e basta certo è che queste sette sono in continuo aumento ed è il perché di ciò che ci dovrebbe interessare sapere perché tanti giovani adepti perché il campo è fertile perché le ombre attaccano laddove è loro più facile arrivare e nella fragilità emotiva dei giovani di oggi che è facile operare per il male e nella loro continua ricerca di un qualcosa che li faccia sentire parte di un tutto nella ricerca di un punto di riferimento e quel che fa più male è che ormai dio viene sempre meno considerato dai giovani un punto di riferimento ma la colpa di tutto ciò di chi è sarebbe troppo facile dire che della chiesa che non opera in modo di rinnovarsi rispetto ai giovani di oggi sarebbe troppo facile dare la colpa a questa società proiettata solo verso il benessere materiale ancora più facile dare la colpa ai genitori che sempre meno valori trasmettono ai figli perché troppo presi dal lavoro o da se stessi allora sommiamo tutte queste realtà e ciò che ne verrà fuori e che i nostri figli i figli di questa generazione sono stati lasciati troppo spesso a se stessi non sarà forse per questa stessa ragione che dilaga la droga che non ci si diverte in discoteca senza l'aiuto di una pastiglia questa è una generazione di eterni insoddisfatti lasciati a se stessi e preda consenziente di ogni ombra di passaggio e questa la dura realtà e non meravigliatevi più di tanto nel sentirvi ripetere dall'entità che se non troviamo il modo almeno di riequilibrare le cose questo nostro mondo è destinato a finire sotto il peso del male è questo uno dei motivi per cui urge divulgare amore è per questo che vi continuiamo a ripetere che dio ha fretta ed è per questo che è importante la crescita numerica dei cerchi come il nostro non posso aggiungere altro per il momento ma vi prometto che tornerò sull'argomento in maniera molto più esauriente appena mi sarà possibile